Ecco, sei già nel tuo primo programma di ballo e sono sicuro che stai avendo un grande successo, che già stai provando su di te tutti i benefici che il ballo ti può offrire. Approfitto questo momento per darti il secondo consiglio. Hai presente questo video che stai guardando ora? Ecco, si trova all'interno del nostro blog. Praticamente è uno spazio nel nostro sito in cui noi pubblichiamo degli articoli di interesse, di interesse per persone come te, come me, che amiamo il ballo. Infatti puoi trovare dei temi come la curva di apprendimento applicata al ballo, oppure un evento di ballo che stiamo organizzando a Miami, oppure ancora i segreti della rumba. Diciamo che è un modo per nutrire la tua fame di divertimento. Diciamo che quando sei a scuola, sei a ballare, sei nella pista da ballo e sei a divertirti. Ecco, quando sei a casa, basta che guardi sul nostro blog e trovi degli articoli che sono sicuramente interessanti, che ti potranno fare anche sorridere. Quindi il consiglio è, guarda sullo schermo, alla tua destra, si trova uno spazio in cui tu puoi iscriverti, puoi mettere la tua email. Allora, cliccando lì ti arriveranno i nostri aggiornamenti, quindi diversi temi su cui stiamo iscrivendo. Quindi consiglio, approfitta ora, metti la tua email e iscriviti subito che inizia il divertimento. Ci vediamo a scuola, buon ballo, ciao!